Ciao a tutti ragazzi siamo qui in un nuovo video Oggi reagiamo al trailer di fortnite Oggi è il 18 e già io vi lascio vedere di fortnite Quindi guardiamolo insieme Ragazzi facendo un casino Trailer season 3 eccolo Guardiamo prima questo fortnite ita Vediamo Ora vi faccio una ripetazione esterna e basta Trailer season 3 eccolo Guarda qui Guarda qui Guarda qui si raffettavano Magari che voglio vedere Se non hanno aggiunto gli squali Tutti che si cavalchi ne basta Devi mettere per cavalcare dei... come dice... lanciare... Non mi viene la parola Devi lanciare la cannata pesca e dei cavalchi e basta Guarda qui Guarda qui San Paolo Unottimo Adesso lo capito è non la skin del livello 100... pd Ok, questa è la skin che vedavamo di Nida, ricordate? Non si capisce se la ragazza sarà, non ci sa. Ecco la renegade, da quant'è che non arrivava in forza? E' una delle stagioni, una delle più belle, la prima te l'ha finita, a me noi dobbiamo vedere due, vediamo, alla fine andiamo a vedere anche come sarà cambiata la mappa, ecco la battle qua, vediamo quello, vediamo quello, il mio benvenuto nel mondo delle onde e questa è la tua fortiglia, qui puoi sbloccare sfide e comprare il pass battaglia per reclutare questa inaffondabile combricola di Masnadieri. Questa è una skin del pass battaglia immagino, vedete c'è il mio nascolo, nei teaser, che segue teaser, sembrava che avevano aggiunte le moto, invece era il mio nascolo sopra una moto che è sopra un robot, avrete capito andiamo avanti, qua c'è l'Aquaman, il cavaliere, un nuovo cavaliere. Questo piccolo clandestino è Kit, crescono così in fretta, ho invitato Aquaman, ha detto sì, ho detto puoi metterti una maglietta, ha detto no, poi c'è Jules. La super ingegnere con le sue incredibili creazioni, esplora la fortiglia e incontri. Ecco, questa qua, questa skin, pare che, beh, lo so, questa skin con le corna viola, è la skin del livello 100, in realtà nel livello 100 ci sono due skin, questo con il livello viola e questo cavaliere, invece Aquaman. Tra tutta la banda, in più dai un'occhiata al cast ombrello. Poi qua, come si chiama, c'è l'ombrello personalizzabile, come nella stagione 2 c'è la skin, hanno messo anche l'ombrello personalizzabile. Con il fast battaglia puoi progettarne uno tutto per te e alla fine della stagione sarà solo tuo. Nel corso dell'avventura ci saranno nuove aree da esplorare, nuovi modi per spostarsi... Questa non avevo visto, guarda, aspettate un attimo. Non mi devo vedere. ...esplorare, nuovi modi... Le macchine. Ma mi hai giunto le macchine, ho giunto squali macchine. ...per spostarsi? Eeeh, fantastiche sorprese, non fartele scappare! Acquista il fast battaglia e sblocca la tua squadra di masnadieri! Inizia a progettare il tuo cast ombrello! Guadagna 1.500 v-pack e tanto altro! Allora, che cosa stai... E' tornato il check jug? Qua che dà 100 di vita e 100 di scudo. Meno male. Mi aspettando! Tuffati! Ok, e anche questo è finito, però non ho poco, eh. Non ho molto poco, andiamo a iscriverci a Fortnite Italia, in caso. E io adesso direi di andare a vedere, nella prima volta giuro, la mappa della season 3 su Google, perché su YouTube ci sono solo i video. Mappa season 3, capitolo 2, l'avevo già scritto prima. Aspettate, eh. Vediamo immagini 3, 2, 1. E quindi? No, questa non è la season 3. C'è qualcosa che non guarda, eh. Noi ragazzi sono solo le 1300, passate. Non hace questo il risultato. Castate! Pputsi è inizipasi. Sì sì sì, non ha nessun malla bua e. Diciamo. Un attimo Una nuova mappa Ah ma è questo? Ragazzi non c'è una vecchia mappa di Fortnite C'è una mappa nuova Non c'è Cosa ci vuole che non c'è Ma hai notizie Cioè Andiamo qua Ce l'ho mai vista sono curioso dai Questa è la coperta Senti Ecco aspetta Vediamo vediamo Allora non ci fanno vedere niente E come faccio a vedere la mappa Aspetta Eccola la mappa Che voi vedete qua Bellissima Questa è ufficiale comunque Tutta ricoperta d'acqua Bello Alla pare che man mano che va avanti la season L'acqua Diciamo che l'acqua diminuirà E farà uscire nuove città O la mappa ritornerà come prima Io spero che Si formano nuove città Niente Questo era un video Per reagire alla mappa Season Tutte stelle cose qui Spare of the video Ci fai Certo E Ciao